C'è questo cliché che adoro tantissimo e fa sempre un sacco sorridere quando lo vedo, che di solito è presente in film, serie o documentari che narrano la fine dei dinosauri dopo l'impatto di un asteroide circa 66 milioni di anni fa, alla fine di quello che viene chiamato Cretaceo come periodo. E il cliché consiste nel mostrare prima di tutto i dinosauri che fanno cose da dinosauri e poi l'asteroide che sta arrivando con musica drammatica sotto dallo spazio. E mentre l'asteroide sta arrivando tra l'altro in linea dritta da lontano verso la Terra, c'è musica ma ci sono anche suoni da asteroide e piano piano l'asteroide tra l'altro è enorme rispetto alla Terra e rispetto alla maggior parte degli asteroidi, incluso quello che ha fatto fuori i dinosauri. E questo oggetto gigantesco sta arrivando verso la Terra e appena è vicino inizia a essere coperto di fuoco, fiamme, anche se è ancora nello spazio. E mentre sta arrivando con musica drammatica sotto, fuoco, fiamme e tutto quanto, sulla Terra ci sono quasi sempre un T-Rex e un triceratopo che fanno cose da dinosauri. Spesso il T-Rex ha appena mangiato, questa è una delle cose che vedo più spesso, il T-Rex che ha ucciso qualcosa e poi dopo guarda verso l'alto. E mentre fa suoni da T-Rex l'asteroide sta arrivando e poi dopo c'è un'ondata gigantesca di materiale bianco, fine dei dinosauri. Ora, ci sono tante cose giuste in questo, gli asteroidi esistono, i dinosauri esistevano, però ci sono un sacco, un sacco di cose che sono approssimative, mettiamola così. Quindi, quello che volevo fare in questo video è parlare un po' di cosa avrebbero potuto davvero vedere i dinosauri, come sarebbe stato l'asteroide che ci ha colpito mentre stava arrivando verso di noi e quali sono alcuni degli errori che di solito si vedono in illustrazioni o video che mostrano quel momento o impatti di asteroidi in generale. Quindi, iniziamo con la prima domanda più importante che è quella di questo video. Come avrebbero visto i poveri dinosauri un asteroide che sta arrivando verso di loro? Ora, immaginate che siete un piccolo triceratope adorabile che guarda intorno nel cielo per vedere le sue stelle preferite. Non so se i triceratope avevano stelle preferite, ma d'altronde non sappiamo neanche se non le avevano, quindi ecco. Ora, quando guardate verso il cielo, quello che vi permette di vedere qualcosa o meno è quello che viene chiamato albedo, cioè quanta luce viene riflessa dalla superficie di un dato oggetto nello spazio. Quindi, per esempio, se pensiamo alla Luna, la Luna riflette intorno al 12-14% della luce indietro. Quindi la maggior parte della luce viene assorbita perché il materiale di cui è fatta la Luna è piuttosto scuro e poi dopo il resto viene riflesso indietro verso di noi. Questo è il motivo per cui vediamo così bene la Luna nel cielo. Però la Terra è molto più riflettente perché non è così piena di materiali scuri, ma ha anche un sacco di zone molto più chiare, vedi gli oceani, nuvole, eccetera, e quindi riflette fino a 30% indietro. Altri oggetti come le comete che sono fatti di ghiaccio hanno albedo ancora più alte, specialmente quando arrivano vicino e quindi sublimano parte di quel ghiaccio e si coprono di una piccola nuvoletta che può essere più grande di Giove, tra l'altro, quindi piccola per modo di dire, di materiale che fuoriesce dalla cometa e quella forma quella che viene chiamata chioma. E poi dietro si forma una lunghissima coda che può arrivare anche a milioni di chilometri. Solo la coda può essere tranquillamente 3-4 volte più lunga del diametro del Sole stesso e a volte copre interi pezzi del Sistema Solare. Quindi se l'oggetto che ha colpito i dinosauri fosse stata una cometa, sarebbe stato uno spettacolo incredibile. Già settimane prima potevano iniziare a vederla nel cielo piccolina e poi pochi giorni prima o il giorno prima dell'impatto questa cometa avrebbe coperto probabilmente una buona fetta del cielo notturno. Quindi immaginate non tanto solo l'oggetto in sé, ma la luce della chioma sarebbe stata enorme, sarebbe stato molto più luminosa della luna piena e mi dispiace che quasi mai in documentari o serie in cui si vede l'impatto di una cometa sulla Terra non si vede da prima. È raro che si veda, salvo un piccolo pezzettino, ci sono alcuni casi in cui si fa vedere, ma la vista prima sarebbe stata pazzesca. E poi fine, sarebbero morti tutti. Però nel caso di un asteroide, che è in realtà quello più probabile, cioè noi sappiamo in realtà che l'oggetto che ha colpito la Terra probabilmente era un asteroide, lo sappiamo dai resti del cratere che è rimasto, il cratere inizialmente era ovviamente molto più grande e la maggior parte ora è nella peninsola dello Yucatan, sepolto sotto l'acqua e poi il resto è sepolto sotto la roccia del continente stesso, ma scavando in profondità siamo riusciti a trovare tracce del cratere e ci ha dato qualche indizio riguardo alle dimensioni e la velocità dell'impatto, l'energia cinetica che si portava dietro. Quindi sappiamo che doveva essere tra 10-12 km circa come oggetto, se stimiamo che era un asteroide, e di solito un oggetto del genere, dipende molto dalla velocità a cui arriva, però di solito gli oggetti del genere arrivano a 30, 50, 40, quel range di km al secondo, a volte 60 km al secondo, a volte 100 km al secondo. Non possiamo dirlo con certezza perché semplicemente un oggetto con una massa minore, ma che arrivava più velocemente, avrebbe potuto creare lo stesso impatto di un oggetto con massa più grande, ma che arrivava più piano, ok? Quindi noi vediamo solo gli effetti, quindi possiamo solo stimare più o meno quello che pensiamo potrebbe essere stato. Quindi, facendo queste premesse, tornando a come potrebbero essere stati i nostri, il dinosauro, eccolo qua, questa è la scena cliché che vi dicevo, cioè, dai, e allora, cosa non è? Bellissimo. Il mio gusto è trash. Quindi, parlando di come l'avrebbero vista, beh, non così intanto, ma se fosse stato un asteroide, prendiamo un asteroide che conosciamo bene, come Vesta. Per esempio, Vesta è il più grande asteroide nel Sistema Solare e ha una riflettività, un albedo, di circa 0,3. L'albedo viene contatta da 0, che è minimo, a 1, che è il massimo. E 0,3, che corrisponde più o meno a 30% della luce riflessa indietro, è un albedo circa 3 volte, quasi, 2 volte e mezza quello della Luna. Ok? Quindi, molto più luminosa della Luna. Quindi questo significa che un albedo del genere sarebbe stato visto già diversi giorni prima. Se arrivava a 30 km al secondo, che è una velocità media, i dinosauri l'avrebbero vista per 3 giorni molto bene nel cielo e avrebbe percorso 2,6 milioni di chilometri ogni singolo giorno. E poi avrebbe colpito la Terra. E poi è festa finita. Quindi l'avrebbero vista per almeno 3 giorni molto bene. Nel caso di asteroidi più luminosi, avrebbero visto ovviamente per più tempo. Se erano più grandi, li vedevano di più. Se fosse un oggetto di ghiaccio, ovviamente sarebbe visto per settimane prima o mesi. Quando di solito si vede nei film, si vedono le fiamme intorno. Perché quelle fiamme non possono esserci? Beh, il problema con quelle fiamme nello spazio è che si formano per attrito contro qualcosa. E nello spazio non c'è un qualcosa. Quindi non ci sarebbero le fiamme. L'altra cosa è che non c'è ossigeno. Quindi l'attrito si riscalderebbe l'oggetto. Ma anche se ci fosse qualcosa che vi riscalda, non c'è modo di vedere fiamme dall'asteroide stesso. Non brucia l'asteroide. Quindi quello che succede è che una volta colpita l'atmosfera, gli strati più esterni dell'atmosfera, allora sposta l'atmosfera stessa. L'impatto di... Per esempio, prendiamo le stelle cadenti. Le meteore che vedete durante le stelle cadenti sono piccoli, sono oggetti minuscoli. Di solito poco più di granelle di sabbia. Quello che riusciamo a vedere in realtà a occhio nudo non è l'oggetto in sé infuocato che cade. Quello che vediamo è dovuto alla velocità dell'oggetto che arriva che spinge contro l'atmosfera con così tanta energia che quest'onda spinta dall'oggetto colpisce l'atmosfera che se ne sta tranquilla e la riscalda tanto da creare un plasma che noi vediamo come luce. Quindi è quello che vediamo, la luce dell'atmosfera davanti che viene colpita dall'onda d'urto causata dall'impatto di questo oggetto. Quindi quello che avremmo visto nel caso dell'arrivo di un asteroide non sarebbe stata nello spazio... Quanto adoro questi illustracioni. Non sarebbe stata però la luce dell'asteroide stesso subito. Avremmo visto la luce dovuta all'atmosfera che viene riscaldata. E con un oggetto di 10-12 km l'intero cielo sarebbe stato completamente coperto da luce molto intensa. Molto più del sole in pieno giorno. Se guardiamo per esempio a Chelyabinsk nei Urali in Russia nel 2013 un asteroide più piccolino di poche decine di metri ha colpito l'atmosfera terrestre e l'esplosione di quell'asteroide era molto più luminosa del sole in pieno giorno. Quindi sì, quest'asteroide una volta arrivato sarebbe stato molto molto più luminoso. Non sarebbe stato visibile così con crateri e frattori. Tra l'altro il buffo perché questo credo abbiano preso il modello della luna Phobos di Marte che è più di 22 km da parte a parte e l'asteroide che ha colpito la Terra era a metà di quello. Quindi non sarebbe mai arrivato con tutta questa struttura intatta così sulla Terra riscaldato. No, cioè completamente sbagliato. L'unica cosa che è vera è che probabilmente l'asteroide per attrito perderebbe pezzi. Quindi non arriverebbe solo un pezzo ma probabilmente ci sarebbero anche altri che cadono nelle vicinanze più piccolini. Ora, andando a vedere altri cliché parliamo dell'asteroide che ha colpito la Terra ai tempi dei dinosauri, ok? Quello era 12 km. Il diametro della Terra è più di 12.000 km. Quindi quanto pensate che sarebbe stato grande visibile da un spettatore fuori un oggetto così piccolino come 12 km rispetto all'intero pianeta? Non così! Questo non è un oggetto di piccole dimensioni questo è un oggetto delle dimensioni di un pianeta nano. Questa è una dimensione gigantesca. Questo non colpisce e fa fuori i dinosauri questo trasforma l'intera crosta terrestre in solo magma e lava e basta. Quindi questi sono eventi non di estinzione di sterilizzazione totale dell'intero pianeta e questi oggetti sono sferici non sono asteroidi. Quindi quando li vedete così ricordatevi che fate caso sempre alla curvatura. E nota anche per chi deve fare illustrazioni. Se qualcuno di voi fa disegni, fumetti, illustrazioni ricordatevi, tutto molto bello. Però l'asteroide che colpisce deve essere drammatica la scena, giusto? Ma se volete farlo vedere grande fatelo vedere da più vicino così potete avere un asteroide più grande. Se è di queste dimensioni, ok, va bene. Ma è centinaia di chilometri. Qui è lo Yucatan, per esempio. Quest'asteroide è almeno credo nell'ordine di migliaia di chilometri. Questo oggetto avrebbe completamente fatto distruggere buona parte della crosta terrestre. Non così. Cosa devo commentare? Niente. Cosa devo commentare? Nulla. È terribile e basta in tutti i modi. Qui è pieno di asteroidi che vedete così. L'altra cosa che vedrete che è affascinante è tutto il materiale lanciato verso l'esterno. Questo, sì, questo succederebbe. Parte dell'atmosfera verrebbe subito riscaldata tantissimo e il gas più caldo si alza, giusto? E quindi molto dell'atmosfera riscaldata inizierebbe ad alzarsi velocemente. Poi, una volta che l'onda d'urto scende nell'atmosfera cosa succede? Che l'asteroide scende e l'onda d'urto passa attraverso prima vaporizza l'acqua se la trova ma poi passa attraverso la roccia e mentre attraversa la roccia per anche chilometri di profondità vaporizza completamente la roccia. Ok? Quindi la roccia sotto non verrebbe colpita e trasformata tipo in lava o briciole. No, 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 no. Verrebbe trasformata in aria. Caldissima. Vapore. Quindi tutta quella roccia vaporizzata così calda schizza verso l'alto e arriva nella stratosfera e da lì arriva a coprire l'intero pianeta. Infatti uno dei problemi maggiori durante l'impatto di un asteroide del genere per i dinosauri e per tutta la vita sulla Terra perché è scomparsa tipo tre quarti delle specie viventi all'epoca è che tutto questo materiale sollevato poi ricade giù. Cioè non è tanto perché copre il pianeta ed è buio ed è vero, è stato buio per almeno un paio di anni dopo ma l'altro effetto drammatico è che tutti questi frammenti di roccia una volta in alto si ricondensano formano dei piccoli oggetti grandi magari qualche decina di centimetri qualche metro e quando questi ricadono giù ricadono e per ognuno c'è più attrito nell'atmosfera e l'intera atmosfera si riscalda così tanto che crei incendi ovunque sul pianeta quindi l'intero pianeta viene ricoperto da questa cenere pioggia dallo spazio di oggetti che poi dopo riscaldano l'atmosfera e il motivo per cui anche se questo asteroide ha colpito la Terra intorno alla zona di Yucatan in centro America noi troviamo tracce di quell'impatto anche a Gubbio infatti a Gubbio c'è proprio la traccia dove è stato trovato il deposito di iridio che ha decretato che questa era un'ipotesi di successo quindi noi sappiamo che l'asteroide ha colpito davvero la Terra in parte anche per un deposito che si trova a Gubbio in Italia ma li troviamo in varie parti del mondo proprio perché ha coperto il pianeta quindi ricordatevi quindi l'asteroide poi dopo molto del danno non è dell'impatto immediato ma è delle conseguenze di tutto questi tutto quello che succede dopo e no cioè semplicemente no cos'è cos'è questa sembra sembra un non posso dire che cos'è e anche in questo caso sì allora cos'è interessante se lo fate vedere da abbastanza vicino potete giocare col fatto che l'atmosfera terrestre nelle foto per esempio dallo spazio è sottile ma non inizia esattamente a 100 km per esempio la stazione spaziale internazionale orbita a 400 e qualcosa km intorno alla Terra ok tra 350 e 400 km grosso modo e in quella zona è oltre tre volte e mezza più lontano di dove inizia il confine tra atmosfera e spazio giusto che è a 100 km tuttavia è così densa l'atmosfera ancora e a quell'altezza che devono periodicamente rialzare l'orbita della stazione spaziale se no precipita quindi l'attrito ovviamente sono pochissime particelle però sono abbastanza che se ti muovi molto veloce colpendo i pannelli solari sempre sempre tutti i giorni durante quest'orbita le fa scendere sempre di più infatti gli oggetti che sono a 200-300 km nell'arco di pochi mesi senza aiuto ricadono sulla Terra o pochi anni dipende dalla velocità dell'orbita e dalla dimensione e da quanto appunto fa un attrito quindi un oggetto che arriva molto veloce come un asteroide di questo tipo inizierà a riscaldarsi e riscaldare l'atmosfera intorno farà brillare anche sopra i 100 km quindi sì in questo caso è interessante è vero questo asteroide comunque è troppo grande a meno che non siamo molto vicini a lui però non si capisce bene da questa distanza però sì potreste far vedere ma anche qui qui sembra che appunto sia illuminato solo in basso e poi dopo ci sono pezzi si staccano sì ma sarebbe illuminata meglio la parte sotto ok detto queste a parte queste curiosità finché non le fate così quindi finché non fate queste cose con le fiamme a me va bene e ci sono tanti modi in cui sono fatti gli asteroidi non tutti devono essere pieni solo di buchi e basta ci sono un sacco di asteroidi che non hanno crateri per esempio o ne hanno pochi perché semplicemente sono molto polverosi andate a vedervi le immagini di Bennu per esempio vi sciupo la sorpresa e a proposito di immagini di asteroidi e altre cose che potete imparare a riguardo io ho scritto un intero libro a riguardo che si chiama come acchiappare un asteroide con tanto di foto cliché con le fiamme dentro no questa in realtà è una meteora nell'atmosfera quindi ecco però nel libro sono più di 400 pagine avete la spiegazione di cosa sono gli asteroidi cosa sono le comete tutte quante le missioni spaziali che abbiamo mai mandato a esplorarli più tutto il racconto di cos'è successo quando abbiamo scoperto i primi crateri sulla terra i dubbi che c'erano a riguardo cowboy che davano la caccia a tracce di asteroidi è fantastico il libro ok ma col racconto bellissimo no il libro è bello però di parte sembra brutto mi vanto di quanto è bello però è bello e c'è un intero pezzo dedicato anche al cambiamento climatico e anche su come potremmo utilizzare asteroidi come risorse in futuro quindi qui trovate un po' di tutto e questo è quanto un abbraccio continuate ad essere meravigliosi attenti asteroidi non morite e ci vediamo prossimamente ciao eccoci arrivati nella end card ora ultimissima cosa se vi piacciono asteroide e comete considerate che là fuori non solo la terra viene colpita ma anche altri mondi quindi per esempio Marte Marte ha un'atmosfera molto meno densa quindi se in futuro saremo su Marte piogge di meteore saranno molto più visibili rispetto a qui qui bruciano ed esplodono nell'atmosfera quando sono ancora piuttosto in alto nell'atmosfera ma lì data l'atmosfera molto meno densa gli oggetti inizierebbero a creare scie più in basso e quindi molti più oggetti riuscirebbero a creare scie molti riuscirebbero a colpire la superficie quindi se da una parte ci sono rischi maggiori a stare su Marte con l'atmosfera che è un centesimo di quella terrestre ma dall'altra parte lo spettacolo delle stelle cadenti sarebbe ancora più spettacolare su Marte e con questa ultima curiosità vi saluto grazie ancora per tutto il supporto sotto trovate il link anche per Pampling dove potete comprare magliette con sconti per voi e in questo modo aiutate indirettamente il sito scusate il canale ma trovate anche il sito per Patreon il canale Patreon dove potete trovare intere serie nuove dedicate ad argomenti che qui non affronto un abbraccio ci vediamo nel futuro ciao